Ma lo stesso fatto che il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano oggi è in Russia, San Pietroburgo, già è una buona testimonianza che abbiamo il desiderio di analizzare le difficoltà che noi abbiamo e di pensare come è meglio superarle. Grazie Presidente, grazie per l'invito e grazie per la straordinaria opportunità di visitare San Pietroburgo in questa importante occasione. Grazie Presidente, grazie per l'invito e grazie per la meravigliosa possibilità di visitare questo meraviglioso cittadino che mi ha dato la possibilità di visitare questo meraviglioso cittadino. Questa mattina ho iniziato correndo nella tua città guardando la bellezza non soltanto delle opere architettoniche ma anche l'ottima qualità della manutenzione, della pulizia e naturalmente poi ho avuto modo di illuminarmi gli occhi con l'ermitage, dunque è stato un inizio di giornata splendido. E adesso sono molto contento di poter approfondire tutte le questioni dei nostri rapporti bilaterali, dunque grazie per l'invito e penso e spero che potremo fare un buon lavoro nel corso del nostro incontro.